Questa è la migliore carta geografica della Bolivia in nostro possesso. Gran parte di essa è bianca, in pratica è pressoché ignota. È una terra di primitivi, ma ci sono alberi della gomma ovunque in Amazzonia. Sono alquanto redditizi. È in corso una grossa disputa tra la Bolivia e il Brasile per quanto concerne i loro confini. Il prezzo della gomma è salito a livelli tali da poter generare una guerra. Mi segui? Certo signore, anche se non capisco che cosa abbia a che fare con me. Ci sto arrivando. Nessuno dei due paesi accetterà dei rilevamenti topografici effettuati dall'altro, quindi ci chiedono di fare d'arbitro. Ha eseguito dei rilevamenti qui con successo. Abbiamo scelto lei per questo compito. Capisco. Capisco. Signori, posso parlare apertamente? La prego. I miei rilevamenti risalgono a tanto tempo fa. E in tutta onestà io speravo in una posizione che mi permettesse di vedere un po' più di azione. Maggiore, non si tratta di un semplice rilevamento topografico, ma di una spedizione esplorativa nella giungla. Un ambiente brutalmente ostile, con malattie orribili e selvaggi sanguinari, è un viaggio che potrebbe costarle la vita. Nella migliore delle ipotesi non tornerà per diversi anni. Ma se avesse successo, un'impresa simile potrebbe procurarle delle onorificenze militari, se non riabilitare il nome della sua famiglia. Ma se avesse successo, un'impresa successo, un'impresa successo, ma di un'impresa successo. Grazie a tutti.